Il problema di Sartre è l'uomo, è l'esistenza in quanto qualche cosa che riguarda la condizione umana e quindi la idea stessa di uomo. Apro una parentesi che magari poi possiamo sviluppare, su questo punto c'è tutta la divergenza con Heidegger, una divergenza che non è soltanto visibile da noi come lettori di Sartre e magari anche di Heidegger, ma che è stata visibile e ben visibile anche ad Heidegger stesso, il quale è intervenuto in prima persona nel dopoguerra con un suo testo, uno dei più notti che si intitola La lettera sull'umanismo, rivolto a un suo amico francese che si chiamava Beaufré e però in realtà rivolto a Sartre. Allora la risposta è sì, certamente l'approccio fenomenologico, gli studi, la formazione fenomenologica di Sartre lo portano sia a una centralità di questo elemento uomo, sia anche a una lettura umanistica poi di Hegel. Anche Hegel è un autore che non è traducibile in termini umanistici in modo immediato. Cosa vuol dire centralità dell'uomo? Io personalmente non penso che questa affermazione sia un'affermazione che toglie qualche cosa a Sartre o toglie qualche cosa al significato della sua filosofia. Vuol dire che la questione dell'esistenza... Sì, l'esistenza è il riferimento all'uomo e all'umanismo. Dunque certamente il fatto che Sartre introduce questa curvatura fenomenologica nell'uso che fa del quadro di riferimento in Heidegger. Per esempio Sartre usa il termine heideggeriano Dasein, esserci. La terminologia di tipo esistenziale di cui Sartre si serve è certamente presa da Heidegger. Come si fa a segnare brevemente questa differenza con Heidegger? Certamente un punto generale è questo diciamo della curvatura umanistica. Ma che cosa significa curvatura umanistica? Perché c'è anche una distanza poi tra Husserl e il progetto husserliano di un ritorno al soggetto e il progetto sartreano. Il quale Sartre certamente propone anche egli un ritorno al soggetto, ma con l'esito che la parola soggetto diventa in Sartre una parola molto più difficile da trattare, molto più difficile da individuare rispetto a com'è nella fenomenologia. E la parola ritorno è una parola che non ha un esito positivo, cioè questo ritorno è la dichiarazione esistenziale, esistenzialistica di Sartre è impossibile. Allora la curvatura di tipo umanistico è certamente il fatto che se Heidegger in essere tempo si pone e via via lo si vede leggendo questo testo fino ad arrivare alle ultime pagine che rimangono come sappiamo sospese, si pone il problema del senso dell'essere, quindi è la questione dell'essere che poi interessa filosoficamente Heidegger e lo si vedrà anche poi nel pensiero successivo di Heidegger, la parola essere, etra che compare nel titolo dell'opera di Sartre funziona più che altro come una sorta di ostacolo, di parete contro cui si sbatte e che non è percorribile, non è attraversabile e quindi è qualcosa che si pone, si frappone tra noi e noi stessi, si frappone al progetto che il soggetto avrebbe di ritornare a se stesso pienamente. E allora il per sé e l'in sé sono appunto due protagonisti di un conflitto, di una lotta che è una lotta come diceva Hegel e come Sartre ripete per la vita e per la morte. È una lotta, è una sfida non legata agli obiettivi determinati ma è una sfida completa che non si risolve e si mantiene dunque da una parte l'illusione diciamo così dell'uomo questa è la conclusione proprio dell'essere il nulla, di poter diventare Dio e quindi in che senso poter diventare Dio? Di poter essere quel per sé che diventa un in sé, che diventa completamente padrone di se stesso. E dall'altra parte invece la permanenza, l'opacità, la vischiosità, l'elemento opprimente che è l'elemento dell'essere, dell'in sé, delle cose così come sono, che è poi il tema che Sartre ha adoperato per esempio, per esempio nella Nausea, che è un'altra tappa di questo periodo, negli anni 30 c'è la formazione del pensiero filosofico di Sartre, ci sono le opere sull'immagine e l'immaginario, c'è questo romanzo che poi rimane il più importante di Sartre che è la Nausea e poi alla fine di questo periodo c'è l'essere e il nulla. Ora forse è proprio... Ecco nella Nausea come viene messo in scena questo conflitto, questo contrasto fra il pensiero e il pensiero. Forse è proprio della Nausea che possiamo capire meglio come stanno le cose per Sartre, anche perché si è detto e ha ragione che l'essere e il nulla è una sorta come dire di dispiegamento e articolazione filosofica del problema che veniva trattato narrativamente nella Nausea. La Nausea è la storia del fallimento di un personaggio, probabilmente quasi certamente autobiografico, il quale è un intellettuale e quindi già qui entra per esempio nel discorso di Sartre il problema dell'intellettuale, del suo compito, della sua eventuale destinazione nella cultura, il quale si affida al sapere e non riesce però attraverso il sapere ad arrivare a se stesso e nel diario che lui scrive e di cui è in definitiva la forma letteraria di questo romanzo, via via noi abbiamo la testimonianza, l'attestazione di questo scacco. Fino a una notazione, un certo giorno, il diario porta una pura e semplice notazione molto secca lapidaria di questo genere, oggi niente punto esistito. Oggi non è accaduto nulla, la pura e semplice esistenza. Quindi la Nausea è quel sentimento, diciamo così, perché poi è qualche cosa che va al di là del puramente psicologico, è quel modo d'essere, quel modo d'esistere che nel romanzo omonimo Sartre scopre attraverso il suo personaggio e che è il sentimento che ci pone di fronte alle cose, al mondo, all'essere, alla pura e semplice realtà quando queste le cose o la realtà si mostrano nella loro nudità, nel loro puro e semplice esistere. Un esistere che è opprimente e non perforabile. Oggi niente esistito. E che in definitiva è un modo di dire, più semplice, più narrativo, forse anche più comprensibile, quello che Sartre dice con l'espressione in sé.